ma ma sempre detto che ero grande per la mia età benvenuti nella landa degli evocatori 30 secondi alla generazione dei minion minione in azione non lo so 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 Non sono morbido, come sembrò. Signora! Piccoli come vuoi. Sono flessibili. Come! Non sono completamente cambiato. Non sono molto più guardi, non sono più guardi. Non sono più guardi. Non ci si siano nessuno. Non ci vediamo. No Dovrai prendermi un conflitto Primo sangue Un venito è stato ucciso Sediamoli Adesso facciamo i pasticci Non mi avicare Non mi raccomandvi Se avvicino Un profil Buongiorno a tutti Non salto mai la colazione. Un'altra giornata. 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 C'è un sacco di me con cui fare amicizia. Prenditela con qualcuna delle tue dimensioni. Rimbalziamo! 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 E' un po' di medicina! Che cosa? Un alleato è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Non si può! Dovrai prendermi un completo. Un nemico è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Grazie. non salto mai la colazione un'altra giornata pilota un'altra giornata un'altra squadra di strutture di strutture un'altra giornata un'altra giornata un'altra giornata dai molleggia un po c'è un sacco di me c'è un po c'è un po Grazie a tutti 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 Grazie a tutti